Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. In primo piano la politica con l'analisi del voto. Il PD con il 14% rappresenta un ottimo risultato sia in termini dei sindaci eletti che in termini statistici. Il commento del post voto da parte del segretario regionale del Partito Democratico Marco Lacarra. Ascoltiamolo in questo servizio. Ancora una volta il Partito Democratico dimostra di essere vivo, di essere il perno di un'ampia coalizione con liste civiche che fanno capo anche al Presidente della Regione che hanno supportato il lavoro fatto dal Partito Democratico che si conferma, ripeto, perno e forza trainante della coalizione del campo largo di centro-sinistra in Puglia. Il messaggio alla minoranza del PD in vista del congresso, la sua riconferma? Questo è da vedere, è da vedere, è da valutare. Io vorrei che non ci fossero minoranze e maggioranze, anche se in una dialettica congressuale è anche plausibile. Vorrei che si ragionasse tutti insieme per poter migliorare ancora questo risultato, fare in modo che il consenso delle liste civiche si trasferisca nel Partito Democratico alle prossime elezioni politiche. Questo sarà il vero lavoro da fare nei prossimi mesi e chiunque condurrà il partito dovrà lavorare in questo senso. A proposito dei 5 Stelle, questa debacle è un bene o un male per il PD? Certamente non è un bene, assolutamente, perché se si andrà al voto, purtroppo tutto lascia immaginare alle politiche con questo sistema elettorale, abbiamo bisogno di una coalizione ampia. Letta parla di campo largo, non a caso, e del Movimento 5 Stelle è un partner della coalizione importante. Quindi vedere un partner che cala nei consensi non è sicuramente un fatto positivo, perché non dimentichiamo che i nostri avversari sono il centro-destra e la coalizione che si potrebbe formare con Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega, e sono loro i nostri avversari. Quindi se noi non ci potenziamo e non ci rafforziamo nel nostro campo largo, è uno dei, ripeto, componenti della coalizione per le consensi, non è assolutamente un fatto positivo, anzi è un fatto di cui preoccuparsi. Scambio di informazioni e maggiore controllo sull'utilizzo dei fondi del PNRR, lo prevede il protocollo siglato tra Guardia di Finanza e il Comune di Foggia. La firma a Palazzo di Città, ascoltiamo i protagonisti con Pietro Capuano. La firma del protocollo di intesa sul PNRR, quale sarà il ruolo della Guardia di Finanza? Il ruolo della Guardia di Finanza sarà intensificare le attività di controllo in materia di spesa pubblica. Noi abbiamo un mandato istituzionale finalizzato proprio alla tutela della spesa pubblica, quindi la tutela delle risorse pubbliche che vengono investite dalle amministrazioni centrali, regionali e locali. Quindi il protocollo in questo caso prevede il flusso informativo da parte dell'amministrazione comunale di tutte le iniziative progettuali finanziate con fondi del piano nazionale complementare. Questo protocollo prevede un livello di attenzione specifico e particolare sulle progettualità del PNRR per evitare che risorse ingenti che stanno arrivando nella nostra amministrazione possono essere poi aggredite con interessi praticamente non legittimi, non legali da criminalità in genere. Oggi la chiusura della prima sperimentazione che prevede per le aziende e le quali partecipano al programma della certificazione Family Audit, vale a dire il miglioramento del clima aziendale e della conciliazione casa-lavoro del benessere organizzativo. Per il Family Audit investiti dalla regione circa 70.000 euro, sentiamo ai microfoni dell'attacco l'assessore al welfare Rosa Barone. Siamo oggi qui in Fiera del Levante a certificare alcune aziende che hanno partecipato a un progetto sperimentale che si chiama Family Audit ed è un progetto supportato dal Ministero delle Famiglie perché prevede una certificazione a tutto tondo sulla possibilità di rendere le aziende e le imprese family friendly, cioè adeguate ai nuovi bisogni delle famiglie e delle donne in particolare. Chiaramente in piena sintonia con quella che è la filosofia appunto dell'assessorato al welfare, infatti abbiamo accolto, siamo partner e abbiamo anche noi come regione dato vita ad alcune misure a favore delle aziende perché possano favorire, possano adeguarsi alle nuove esigenze delle famiglie, quindi rendendo gli orari più flessibili, organizzazioni più moderne, più armonizzate rispetto ai bisogni, quindi tutto più flessibile. Una cultura che deve necessariamente cambiare il mondo del lavoro non è più quello di 20 anni fa, di 10 anni fa, col Covid ancora di più le esigenze sono modificate e proprio per questo dobbiamo correre i pari, adeguare e soprattutto aiutare ad adeguare le aziende, ma non solo, anche gli enti locali, il terzo settore, a quelle che sono le nuove esigenze della famiglia. Con questa ottica, questa visione, noi siamo oggi qui convinti che se migliora appunto il clima delle aziende ne va a vantaggio dell'azienda stessa e come a vantaggio dei dipendenti, in un contesto sicuramente che migliore, che produce di più ed è sicuramente molto più corretto e molto più adatto a quelle che appunto sono le nuove bisogni, le nuove esigenze, anche e soprattutto delle famiglie pugliesi. Sono 48 mila i laureati che hanno lasciato la capitanata negli ultimi 10 anni. In questa provincia solo una donna su tre lavora, per lo più con un contratto precario. L'analisi dell'economista Manfredoniano Nicola Di Bari, il servizio di Lucia Piemontese. Il declino della capitanata è tutto nei numeri del suo tessuto imprenditoriale, della sua economia e dei suoi livelli occupazionali. E' quanto afferma a chiare lettere sull'attacco di oggi l'economista sipontino Nicola Di Bari, che evidenzia in primis come l'economia di capitanata negli ultimi 10 anni abbia perso 1,2 miliardi di euro di PIL, tutto nel settore privato. Il PIL per abitante è sceso al 55%, pari a 16 mila euro, rispetto a quello del centro nord Italia, dove è pari a 30 mila euro. Le imprese sono in provincia di Foggia oltre 67 mila, un'impresa in media ogni 9 abitanti circa, ma sono estremamente piccole. In media parliamo di imprese che hanno 4 addetti ciascuna. Rispetto all'occupazione, alla vigilia della pandemia da Covid-19, solo il 40,1% della popolazione in età da lavoro in provincia di Foggia risultava occupata, contro il 66,6% del centro nord. Il tasso di occupazione è sceso tra il 1980 e il 2020, dal 50 al 40,1%. Ancora più drammatico alla situazione femminile, il tasso di occupazione delle donne è pari al 29,1%, vuol dire che su 10 donne solo 3 hanno un lavoro per lo più precario e sfruttato. Negli ultimi 40 anni, in provincia di Foggia, la situazione lavorativa delle donne è migliorata di poco, perché si è passati dal 25,1% del 1980 al 29,8% del 2020. E infine di Bari è evidenziato il dato sconfortante dei 48.000 laureati che negli ultimi dieci anni hanno lasciato la provincia di Foggia. Un capitale investito in istruzione stimato in 45 miliardi di euro, i cui ritorni saranno a tutto vantaggio delle aree del centro, del nord Italia e dei paesi esteri. Si apre una nuova era per i centri per l'impiego e stamattina a Lucera è iniziato un tour provinciale di promozione dei servizi. Ce ne parla Riccardo Zingaro. I centri per l'impiego in provincia di Foggia vogliono cominciare un nuovo modo di operare sul territorio, soprattutto grazie al grande innesto di personale vincitore di concorso con ARPAL, che due mesi fa ha assunto centinaia di persone. Quelli che si chiamavano uffici di collocamento ritengono di poter fare di più e meglio nell'incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. E stamattina a Lucera sono stati presentati servizi e progetti che vanno in questa direzione, anche grazie a dieci nuovi istruttori del mercato del lavoro, che in questo periodo chiede soprattutto figure operanti nel terzo settore, nel turismo e nei servizi, nell'agricoltura non specializzata e nell'edilizia, derivanti dal gran numero di cantieri aperti con i bonus governativi. Il tessuto imprenditoriale deve sapere che il centro per l'impiego offre dei servizi specializzati, qualificati, grazie anche a tutti i nuovi dipendenti che sono stati potenziati, i centri per l'impiego con nuove assunzioni. Proprio in questo momento siamo in grado di poter offrire servizi alle imprese, cioè ricerca attiva del lavoro, preselezione, colloqui che si possono fare addirittura utilizzando una sede neutra, cioè questa del centro per l'impiego, in supporto alle aziende stesse nel fornire colloqui professionali. Ha postato sul profilo social il video del ragazzo che ha tentato di entrare in casa per un furto. Un imprenditore affoggia, lancia l'hashtag Togliamogli la maschera. Sediamo Tomi Guerieri. L'imprenditore Gianmichele Romano ci mette la faccia, la sua è quella del ladro e posta un video sul suo profilo Facebook Togliamogli la maschera, in cui racconta e mostra attraverso le immagini delle sue telecamere di sicurezza il tentato furto a casa sua. Bravo Carlo, torna quando vuoi, dice e scrive al ladro, che a volto scoperto viene immortalato dalle telecamere. Lo ha identificato dalla mano offesa, non ci ha messo molto a capire chi fosse, perché già altre volte il ragazzo è apparso nelle foto e nelle notizie di cronaca per episodi dello stesso genere. Io so chi è lui, se tutti noi gli togliamo la maschera, questi poveracci avranno paura. Su oltre 20.000 denunce sono sempre gli stessi che vanno in giro a rubare e allora togliamogli la maschera, scrivete anche voi a Carlo. E questo è l'appello che l'imprenditore fa attraverso la sua pagina Facebook, ma la sorpresa più grande è stata quella di aver destato l'interesse non solo di tanti che gli hanno manifestato solidarietà e dello stesso ragazzo che è già tornato a farsi vedere sotto casa sua, ma anche di qualche amico che lo ha chiamato per consigliarli di rimuovere il video, perché ad essere in pericolo potrebbe essere lui, oltre che per mano di una vendetta o reazione del giovane e anche per la legge. Sto pensando se sarebbe opportuno rimuoverlo o meno, dice già Michele Romano, che poi aggiunge, se lo facessi verrei meno al motivo che mi ha spinto a fare questo gesto. Non voglio fare l'eroe né mi sento tale. Il senso di questa condivisione, togliamogli la maschera a tutti, perché se lo faccio solo io possono venire sotto casa mia a picchiarmi o incendiarmi l'auto, ma se lo facciamo in 100, in 200, non potranno picchiare tutti. Bene, è tutto per il momento. Prossimo appuntamento con l'informazione domani in prima edizione alle ore 14. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata.